Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale AC News. In questa anticipazione parleremo di un evento davvero importante, che cambierà per sempre la vita di questa persona. Ovvero dell'arresto di Zuleya per tentato omicidio a favore di Demir. Prima di proseguire, se vi va, lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale per non perdere le prossime anticipazioni. Ripartiamo! Siamo arrivati a quando Zuleya ha colpito con un colpo di pistola Demir. Zuleya sotto gli occhi dei dipendenti della villa spara un colpo di pistola a Demir. Nello stesso momento Yilmaz e Fekeli stanno cercando in tutti i modi Zuleya perché non riuscivano ad intuire come fosse scappata per arrivare alla villa e mettere in atto il suo piano. Ma vengono fermati da un uomo, che gli comunica, che cetina subito un grave incidente, e corrono immediatamente all'ospedale. Nello stesso momento anche Demir viene portato con urgenza all'ospedale, mentre Zuleya, nonostante quello che abbia fatto, sta passando del tempo insieme ai suoi figli, perché sa molto bene che non li rivedrà più per molto tempo. Dopo averli salutati con le lacrime agli occhi, gli vengono messe le manette perché è colpevole del tentato omicidio di Demir. In quel momento, Yilmaz, arrivato sul posto, scorge la situazione e vede l'arresto di Zuleya. Subito dopo, Fekeli arriva, e vede Yilmaz che corre dietro all'auto, come aveva già fatto anche Zuleya, quando Yilmaz era stato arrestato. Una volta arrivato in ospedale, Fekeli fa una scoperta scioccante, ovvero viene a conoscenza che Zuleya ha sparato a Demir. Un car distrutta viene tranquillizzata in qualche modo da Fekeli, che si sente in colpa perché la pistola che ha utilizzato Zuleya era la sua. Una volta che Zuleya è dietro alle sbarre, arriva il procuratore Giulide, che le domanda se Demir è ancora vivo o no. Lei non sapendo cosa rispondere, le conferma che Demir è vivo. La procuratrice è molto rattristita per ciò che è accaduto, e promette a Zuleya di darle il minimo della pena. Dalle parole della procuratrice, Zuleya si apre ed inizia a raccontare il suo amore verso Yilmaz, sapendo che per lei sarà molto difficile uscire di prigione. Ma Giulide le ribadisce, che ancora non si può sapere quale sarà il verdetto finale. Zuleya rifarebbe sempre ciò che ha fatto, per amore dei suoi figli, perché Demir voleva allontanarli da lei. Mentre Demir lo stanno operando, Gaffur racconta a Cetil l'accaduto, e Sanie sta in silenzio per rispetto. Subito dopo, Un car chiede a Gaffur e a Sanie, di tornare in villa per controllarla. Mentre sta uscendo dall'ospedale per tornare a casa, Un car lo vede zoppicante, e viene a sapere che è stato accoltellato da alcuni individui. In un secondo momento, Un car racconta a Fecheli che in passato gli era capitato un episodio simile con il suo ex marito, che a causa di un tradimento, lui voleva portargli via suo figlio Demir. Quindi capisce il gesto estremo di Zuleya, anche se sotto i ferri c'è suo figlio, che sta lottando tra la vita e la morte. Yilmaz intanto va in tribunale, per poter parlare con Zuleya, ma purtroppo non può farlo, perché non ha un permesso. Dopodiché, entra Mujgan che vendendolo diventa triste, ma va a parlare con il procuratore sentendosi in colpa per quello che è successo, avendo portato anche lei, Zuleya alle strette. Juley, dopo averla sentita, farà di tutto per diminuirle la pena, a patto che Demir sopravviva, perché in caso di ciò si tratterebbe di omicidio colposo. La situazione di Demir si sta complicando per via di una perdita eccessiva di sangue, così sua madre capisce che Demir sta morendo. Mujgan tornata a casa, viene fermata da sua zia Beice, che le domanda dove sia stata, e lei le racconta tutto ciò che è accaduto, e lei le chiede di più, soprattutto se Demir sia morto. Mujgan non ne ha conoscenza. Poi Beice gli chiede di Yilmaz, a questo Mujgan risponde rattristita, perché sa che Yilmaz è innamorato di Zuleya. Sabattin, in sala operatoria, riesce ad estrarre il secondo proiettile, e va a parlare con Unkar e Fekeli, e gli comunica che l'operazione è conclusa. Ma Demir resta in pericolo per via del polmone perforato, e i reni lesionati. Quando lo portano in stanza, Unkar e Fekeli lo vanno a trovare per stargli vicino. Unkar poi spinge Fekeli a tornare a casa per potersi riposare, perché anche quel giorno ne ha passate di tutti i colori. Ma lui non vuole lasciarla sola. Il giorno dopo, in prigione le altre detenute, vengono a sapere che Zuleya fa parte della famiglia Yaman, e la eliminano dal gruppo. Yilmaz rientra a casa. Mujgan gli va incontro, ma viene fermata prima da sua zia Beice, che le dice di non dargli contro e di non parlare di Zuleya. La zia, appena lo vede, gli chiede come sta Demir, e Mujgan invece si scusa. Ma Yilmaz gli dice che vuole il divorzio, perché non ne può più, e la minaccia di riprendersi suo figlio. Le anticipazioni terminano qui. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like ed iscrivetevi al canale, per non perdere le prossime anticipazioni. Grazie di cuore, e ciao!